Buonasera, sono Laura Antichi. Oggi vi presento Emerge Cube. Emerge Cube consente di esplorare oggetti 3D digitali sul palmo della mano. È fatto per contenere e mostrare oggetti 3D ed interagire con essi. È un cubo olografico per realtà aumentata. L'originale è in gomma semirigida, color nero e argento. Le facce riportano simboli. Presuppone l'uso di app dedicate scaricabili sui dispositivi smartphone da Google Play e App Store. Si utilizza la fotocamera del proprio smartphone dopo aver aperto l'app scaricata e si punta sul cubo. Utilizzando la modalità cube, gli oggetti compariranno sul cubo tenuto in mano. Quindi oggetti 3D personali possono anche essere uploadati avendo un account Emerge e nei formati che sono contemplati. Quindi andiamo a vedere ora il nostro cube. Ma prima volevo dirvi che è possibile, se non volete acquistare il cube, utilizzare un cube di cartone realizzato da un template che è messo a disposizione nel web. È possibile associare il Merge Cube con Merge Headset per sperimentare viaggi virtuali a 360 gradi. Andiamo ora a vedere il nostro cube. Questa è la scatola con il Merge Cube acquistata su Amazon. Qui ci sono tutte le istruzioni, e adesso andiamo ad aprire questa scatola. Ecco questo è il cubo libero dalla confezione. Vedete che c'è un supporto, sul supporto c'è un activation code e il cubo che voi vedete è in morbida plastica, quindi molto maneggevole e contiene quei simboli argento su sfondo nero. La confezione che contiene il cube è questa e vedete che c'è anche uno spazio per inserire lo smartphone e a liberare le mani per poter poi maneggiare il cubo. Questa è la scatola del Merge Virtual Reality Headset e che adesso andiamo ad aprire. è un headset molto morbido quindi adatto a anche per i bambini. Ha degli occhialini qui dentro e qui va infilato lo smartphone per poter visualizzare quindi le applicazioni in 3D. questo è il Merge Cube che è stato costruito da un template ed è in cartoncino. Va altrettanto bene e funziona alla grande. possiamo andare ad acquistare il Merge Cube ad esempio da qui acquista Merge Cube da questo sito poi le indicazioni vi verranno messe sotto il video e possiamo acquistare l'headset da qui abbiamo poi è molto interessante registrarsi a questo sito molto interessante per il docente perché si può poi una volta che ci si è registrati io sono già registrata andare in Merge Dashboard ecco e qui è possibile attivare come vi ho fatto vedere nel tutorial successivo le varie applicazioni e visualizzarle sullo smartphone ecco questo è un Merge Cube 3D che può essere poi visto che può essere anche visto dopo sulla naturalmente sulla LIM mettiamolo a full screen e screen e si può quindi utilizzare per dimostrazioni anche da lì abbiamo poi il Merge Cube da template le app indispensabili da scaricare sono essenzialmente due io ne consiglio due il Merge Explorer e il Merge Object Viewer sono come vedete disponibili tanto per Android che per iOS ad esempio dopo aver scaricato queste applicazioni si va poi a scegliere l'applicazione che interessa e si visualizza sul proprio sul proprio Cube e si interagisce con essa andiamo ora a collegarci all'app scaricata sul cellulare Merge Explorer apri ci mette un po' ad aprirsi chiede attenzione è importante che un adulto supervisioni l'utilizzo della realtà aumentata presta sempre attenzione a ciò che ti circonda ok e sono entrata nell'applicazione vedete che mi appresenta subito ad esempio il Galactic Explorer clicco su Galactic Explorer mi da un'introduzione e poi clicco sulla app ecco che me la carica e vedete che ho il ho il sistema solare e il sole con i suoi pianeti puntando sul cube posso vedere i singoli pianeti ho la descrizione dei pianeti ecco vedete e la riapro per farvi vedere meglio e quindi ho tutte le informazioni posso ottenere tutte le informazioni sul sistema solare chiudo l'applicazione e vado posso andare in Mr. Body in questa scheda vedremo l'anatomia stilizzata dell'essere umano l'anatomia e lo studio delle strutture biologiche degli esseri umani e degli altri animali quindi la dissezione di questi organismi consente di definirne la struttura ti da tutta la spiegazione poi avvi Mr. Body punti sul sullo smartphone e vedete che giro poi posso ecco l'ho raddrizzato il cubo posso vedere ad esempio il cervello che ti da le informazioni sul lobo centrale posso vedere le altre parti ad esempio il fegato vediamo uno vedete che vi da informazioni quindi sul fegato questo è il Mr. Body che serve per lo studio appunto del corpo umano anche la trasformazione della terra è piuttosto interessante clicco sul viaggio al centro della terra mi da mondo e 3d comunque ecco questo era il viaggio al centro della terra questa attività la trasformazione della terra abbiamo visto quindi vediamo invece la trasformazione della terra che questa app mi sembrava che funzionasse bene vediamo che questa è un'attività comunque ci sono un sacco di attività che sono gratuite e altre che sono invece quelle con il lucchetto a pagamento come potete osservare possiamo dalle tre linee andare in categorie e vediamo tutte le categorie disponibili ecco quelle che sono la maggior parte free qui sono quelle scienze della terra e dello spazio che abbiamo appena visto alcune di queste vediamo ora l'altra applicazione che vi citavo come collezione e raccolta di applicazioni che si chiama Merge Object Viewer la apriamo dopo averla scaricata sul nostro PC vediamo ora l'altra applicazione che si chiama Merge Object Viewer che contiene una serie di app dopo averla scaricata sul cellulare la apro ecco e vedete che nell'accesso mi da gli oggetti le raccolte la ricerca del codice eccetera eccetera andiamo in raccolte qui ci sono tutte delle interessanti raccolte sugli oggetti l'antico Egitto eccetera eccetera l'architettura i dinosauri andiamo a vedere Edgar Allan Poe molto interessante ad esempio questa vista della raccolta vedo sul cubo ecco questo quindi The Poems The Raven e mi da le informazioni su questo ad esempio Poem su è sempre Edgar Allan Poe vedete ecco mi da le informazioni su Black cat così via si possono ottenere diverse informazioni su i dinosauri e le altre cose e ho anche il come supporto all'insegnamento il genetics ad esempio il DNA quindi punto sul sul cubo e ho la struttura del DNA qui ho poi la citosine posso comunque vedere le varie le varie strutture vediamo un'altra vediamo se si apre ecco questo è l'acrocentric chromosome eccetera eccetera quindi può essere utile per il supporto all'insegnamento ci sono queste tutte app ad esempio questa del Nucleus vediamo se si apre ecco questo è il Nucleus ecco questo è il Nucleus con tutti i riferimenti ricordatevi ecco di andare alla voce proprio raccolta ti chiede sempre di abbonarti bypassiamo questo passaggio molto molto interessante registrarsi al center center è molto interessante come docente e a qui io mi sono già registrata e potete andare nel Merge dashboard qui e avete what's new what's new tutte le novità e queste in genere le novità che compaiono sono gratuite le altre sono a pagamento quindi potete andare a vedere i virus ecco share options scannerizzate con il vostro cellulare il aspettate che l'ho esposto il cellulare il QR code e come vedete adesso comparirà tra un attimo ci mette un attimo sempre a caricarsi vi carica la la risorsa dice sempre è importante che un adulto supervisione la realtà aumentata andiamo ad esempio a guardare human e quindi utilizzo il cubo per scansionare per vedere l'oggetto mi dà poi questo oggetto posso anche ingrandire ecco adesso lo carica di nuovo ecco che dovrebbe comparire beh va beh prima un'altra immagine rinovirus comunque ogni volta trovate l'informazione sulla risorsa vi viene data carica di nuovo un'altra risorsa io volevo farvi vedere però questo che era il primo che abbiamo visto e quindi è l'HIV informazioni da tutte le informazioni su l'HIV mi sembra anche questo oltremodo in in what's new possiamo vedere altre cose il metrology il vocal pedagogy poi human anatomy gli cervodi che abbiamo visto prima e anche il galactic explorer che abbiamo visto prima il materiale genetico che ci permette di di avere ve ne andiamo a vedere il materiale genetico ti da una serie di di attività comunque delle simulazioni di scienze ricordatevi ecco che in my staff ci sono gli oggetti che abbiamo caricato noi io ho uploadato degli oggetti in fbx che li avevo fatti con altre applicazioni e sono e sono visibili ad esempio questa il mio è l'avatar che della collezione che ho uploadato qui comunque rimanete su watch new per vedere per provare queste applicazioni ordine l'amore ora 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 ora